Buongiorno Friuli e bentrovati a questa nostra prima diretta del mattino dedicata alla lettura delle notizie principali dei quotidiani che troviamo oggi in edicola ma iniziamo questa nostra rassegna stampa dando un'occhiata alle previsioni del tempo per la giornata di oggi mercoledì 5 ottobre gli esperti dell'Osmer Arpa ci dicono che oggi sulla fascia orientale e sulle Alpi avremo cielo sereno o poco nuvoloso sulla fascia occidentale cielo da variabile a temporaneamente nuvoloso al confine con il Veneto non è del tutto esclusa qualche isolata e breve pioggia sulla costa soffierà bora a tratti sostenuta al mattino moderata in attenuazione dal pomeriggio farà più fresco dei giorni precedenti vediamo infatti le temperature minime di 8 12 gradi in 12 14 gradi sulla costa e massime che andranno dai 14 ai 17 gradi in pianura un grado in più invece sulla costa e ora cominciamo la nostra rassegna stampa andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali che troviamo oggi in edicola cominciamo con il Corriere della Sera che apre ancora con le parole del ministro dell'economia Paduan che difende i numeri previsti all'interno del documento di economia e finanza in particolare la crescita fissata all'un per cento una crescita invece diciamo così criticata da Banca Italia che ha parlato di una crescita ambiziosa Paduan difende la crescita all'un per cento e dice è realizzabile Renzi aggiunge tra un anno vedremo chi ha ragione è ambizioso ma come dice come dice Banca Italia ma realizzabile il ministro dell'economia Paduan difende il DEF e l'obiettivo di crescita all'un per cento della manovra ma dovrà tornare in Parlamento a spiegare intanto anche il fondo monetario internazionale peggiora le sue stime su pil e deficit successo del tesoro che piazza 5 miliardi di Mattusalem bond i BTP con scadenza a 50 anni e rendimento al 2085 sempre sul Corriere della Sera vediamo anche una foto di Papa Francesco in visita nei luoghi colpiti dal terremoto nell'Italia centrale davanti alle macerie di Amatrice ci dice il titolo di questa foto notizia e vediamo appunto Papa Francesco in preghiera una preghiera silenziosa quella del Papa il Papa ad Amatrice sui luoghi del terremoto per ascoltare il dolore della gente colpita dal sisma il Pontefice ha visitato la nuova scuola e pregato davanti alle macerie il desiderio di un inizio il battesimo dei frammenti la sua immagine colta dal fotografo di spalle a guardare le rovine Papa Bergoglio in piedi in piedi davanti allo scenario muto e desolato e poi ancora sempre sul Corriere della Sera nel taglio basso addio terzo tempo bullismo nel rugby a processo quattro promesse dell'Accademia in Veneto stalking e violenze sulle matricole l'Accademia di Mogliano Veneto che è una delle dieci finanziate dalla federazione italiana rugby ed è considerata appunto un luogo di eccellenza per studiare e allenarsi dice il Corriere e poi ancora sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera le ultime novità riguardanti la morte di Stefano Cucchi ucciso dall'epilessia a sette anni dalla morte una nuova perizia riapre il mistero su Stefano Cucchi la tesi prevalente morte per epilessia le lesioni subite nel pestaggio in caserma non avrebbero provocato il decesso e poi ancora rimanendo in questa parte di pagina vediamo questo articolo che ci arriva da Roma un racconto non salite sul Colle Oppio in questo parco che domina il Colosseo tutto qui a Colle Oppio e fuori dalle regole e dentro il pericolo l'aggressione alla turista australiana l'altra sera è avvenuta sotto un lampione sbilenco poi nelle pagine interne vediamo anche la foto ma andiamo adesso anche su Repubblica dove vediamo che sono le due notizie che abbiamo visto in apertura del Corriere della Sera ad aprire appunto anche la prima pagina di Repubblica ecco la battaglia sul DEF stime da rivedere Erenzi che dice i soldi ci sono e poi appunto la foto di Papa Francesco terremoto la carezza del Papa ce la farete io sono con voi ha detto Francesco di spalla su Repubblica abbiamo anche un articolo di Gianni Mura che ci ricorda l'uscita in edicola dell'autobiografia di Johan Cruyff il ragazzo magico che cambiò il calcio una mia rivoluzione esce a circa sei mesi dalla morte per cancro ai polmoni e poco importa come si scrive il cognome scrive Gianni Mura tutti sanno chi era la copertina è color arancia un colore che prima di lui e di quelli della sua generazione non era nel gota del calcio chiudiamo anche la prima pagina della Repubblica andiamo adesso a vedere il manifesto vediamo come apre oggi il manifesto il primo no titola un no dopo l'altro dagli istituti finanziari interni e internazionali la manovra economica incontra lo scetticismo generale su quell'1% di crescita annunciato da Renzi e Paduan nel DEF l'ufficio del bilancio potrebbe non sottoscriverlo la sinistra PD chiede di ritirarlo andiamo a vedere adesso anche come apre il Libero ecco il titolo di apertura di Libero diventeremo tutti razzisti a forza di non governare l'immigrazione è l'anno del record degli arrivi siamo già quasi 150.000 l'accoglienza è un caos e la paura diventa intolleranza e la Boldrini che insiste a dire che gli italiani sono xenofobi e gli islamici vittime aggrava solo il problema scrive Libero andiamo anche sul giornale vediamo anche l'apertura del giornale in questo caso vediamo un'altra notizia in primo piano il Papa fa subito santo il prete ucciso dall'Isis sgozzato sull'altare a Rouen iniziato il processo di canonizzazione dell'ultimo martire e poi vediamo anche la notizia della visita di Papa Francesco ai terremotati di Amatrice chiudiamo anche il giornale andiamo su un'altra prima pagina andiamo sul fatto quotidiano vediamo il titolo di apertura patto del Biscione, Renzi con Fallonieri e Mediaset vota sì al referendum costituzionale gli incontri e i contatti per tenere in sella il premier amico dietro il silenzio di Berlusconi sul 4 dicembre la strategia del gruppo mentre l'agicom scrive il fatto nasconde i dati sulla presenza dei due fronti in tv e poi ancora per quanto riguarda il DEF Paduan difende i dati gonfiati scrive il fatto quotidiano c'è crescita perché lo dico io chiudiamo anche il fatto quotidiano e andiamo adesso sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport così diamo un'occhiata anche alla prima pagina di un quotidiano sportivo oggi in edicola il campionato di Serie A lo sappiamo è fermo per gli impegni della Nazionale e allora vediamo il titolo di apertura che è dedicato a un ex del calcio italiano l'ex capitano del Milan Maldini Maldini al Milan torno solo se una lunga intervista all'ex capitano Rosso Nero che dice non posso metterci la faccia senza conoscere i cinesi ci sono due ostacoli voglio una responsabilità diretta e chiarezza sul mio ruolo nelle pagine interne l'intervista realizzata da Olivero che dice alle 8 di sera di una lunga giornata dopo aver letto e ascoltato tante cose e dopo aver riflettuto Paolo Maldini fa sentire la sua voce scelgo la Gazzetta per fare chiarezza perché di questo si tratta non è un messaggio di rabbia o di rancore ma di chiarezza poi all'interno tutta l'intervista a Paolo Maldini la Gazzetta rivela anche un retroscena ci sarebbero già stati quattro incontri Passone lo vede direttore tecnico in una gestione a tre e poi ancora sempre per quanto riguarda la prima pagina della Gazzetta dello Sport occhi puntati sulla Nazionale che domani sera a Torino affronterà la Spagna un ritorno a Torino per un grande ex della Juve Morata i due no di Morata nessun ritorno alla Juve ma per lei ho rifiutato Napoli domani lo spagnolo a Torino sfida gli azzurri e dice ho il bianconero nel cuore sono quasi italiano e poi Bonucci di Spalla che parla di Nazionale ma parla anche della vicenda personale riguardante il figlio il figlio molto malato Bonucci il figlio e le lacrime ho capito cosa conta nella vita poi invece ritornando al calcio all'Inter tanti tiri pochi gol ecco perché Icardi non basta questi gli articoli principali sulla Gazzetta dello Sport di oggi si parla poi anche del caso di doping che ha visto protagonista la tennista Sharapova Sharapova colpevole con lo sconto pronta per Roma chiudiamo anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport adesso e andiamo sui quotidiani locali andiamo sul Gazzettino perché oggi Messaggero Veneto e anche Piccolo non sono in edicola per uno sciopero proclamato ieri e legato alla cessione di alcuni quotidiani del gruppo quotidiani di altre regioni d'Italia anche il Messaggero Veneto e il Piccolo però hanno aderito appunto a questo sciopero e quindi oggi non sono in edicola andiamo allora sul Gazzettino il Gazzettino il quotidiano di Pordenone vediamo quali sono le notizie raccontate appunto dal Gazzettino l'apertura è quella dei maggiori quotidiani italiani crescita il governo sfida Banca Italia e poi vediamo la foto di Papa Francesco nei luoghi del terremoto in primo piano sul Gazzettino le parole di mister Del Neri il nuovo allenatore dell'Udinese che è stato presentato ieri alle 12 Del Neri dice voglio restare a lungo va ricucito lo strappo con i tifosi la mia Udinese dinamica e divertente poi nel corso della nostra rassegna stampa andremo anche a risentire le parole di mister Del Neri ieri in conferenza stampa adesso continuiamo l'analisi della prima pagina del Gazzettino vediamo a Pordenone Rimbolsopoli la segretaria rischia il posto si tratta di un'indagine che ha visto ha visto protagonista ha riguardato il il consorzio Cellina Meduna ecco vediamo il titolo dell'articolo che troviamo nelle pagine interne segretaria indagata rischia il posto e poi ancora rimanendo appunto sempre su questa pagina una notizia di cronaca nera un'ultima ora attraversa la strada investito è gravissimo grave incidente nella tarda serata di ieri all'altezza di Ponte Meduna a Pordenone un pedone che stava provando ad attraversare la strada statale Ponte Bana per cause in corso di accertamento è stato investito poco prima delle 22 da un'automobile che proveniva da Zoppola questo per quanto riguarda la cronaca ma adesso ritorniamo in prima pagina sempre sul Gazzettino un'altra notizia che ci arriva dal Pordenonese la crociata del sindaco di Pordenone Ciriani troppi bar adesso basta in città ce ne sono più di 350 nulla di personale ma il sindaco ha intenzione di iniziare una crociata per bloccare la nascita di nuovi bar in città a Pordenone ce ne sono più di 350 e aprirne altri significherebbe frammentare ulteriormente il lavoro serve ha spiegato Ciriani differenziare i settori e poi ancora il restauro del campanile di San Giorgio San Giorgio della Ricchia in Vella tempi lunghi per San Giorgio ci dice il gazzettino in prima pagina andiamo nel taglio alto adesso due notizie che ci arrivano sempre dalla destra tagliamento a Sacile la Lega non vota il bilancio Gava contro la sua maggioranza a Cordenons Palazzina nel degrado invasa da Topi e Scarafaggi ma andiamo adesso nelle pagine dedicate al Friuli e vediamo quali sono le notizie che tengono banco oggi sul gazzettino si parla di politica in apertura si parla delle manovre politiche in vista delle elezioni regionali del 2018 centrodestra a caccia di unità scrive il gazzettino l'imprenditore Bini si prepara a bordo campo ma sono tutte manovre tattiche nella Lega Salvini lancia Fedriga i forzisti replicano con il loro asso Riccardi unità in tre sillabe dalla molteplice connotazione evocativa sta l'unica strategia capace di condurre il centrodestra alla vittoria elettorale del 2018 per riconquistare il governo della regione l'unità della coalizione infatti ha quasi sempre postulato il successo sebbene un vizio endemico di questa parte del panorama politico regionale sia proprio l'andare per consensi in boschetti domestici ciascuno sui propri sentieri ben battuti talora tralasciando l'obiettivo finale del candidato unico ed ecumenico come invece se fatto a primavera per i comuni di Trieste e Pordenone e poi nella parte centrale dell'articolo abbiamo appunto tutte le ipotesi tutte le manovre che si stanno organizzando all'interno del centrodestra in questi in questo anno in questi ultimi mesi in vista appunto delle elezioni del 2018 si guarda anche agli altri schieramenti politici sinistra immobile scrive il gazzettino ecco la chiave di lettura dei tanti annunci che si susseguono in queste settimane non a sinistra vada bene dove l'opposizione dove l'opzione di una ricandidatura di Deborah Serracchiani sbarra al passo anche sostanzialmente almeno al momento alle alternative praticabili prima fa tutte ancora quella dell'attuale vicepresidente Sergio Bolzonello e poi ci ricorda il gazzettino anche l'incognita del candidato dei 5 stelle l'unità sarà più efficace l'unità del centro-destra se si potrà cementare a pochi mesi dal voto 2018 c'è infatti tutto il tempo per bruciarsi oltretutto con quel convitato di pietra che è il movimento 5 stelle scrive ancora il gazzettino e poi voltando pagina andiamo a leggere anche le altre notizie che riguardano sempre la politica regionale con la missione del vicepresidente Bolzonello in Giappone un forum del sole levante in Friuli il vicepresidente Bolzonello torna dalla trasferta in Giappone con importanti intese portuali e turistiche e poi le missioni della giunta tagliate ancora le spese in nove mesi si arriva a 74 mila euro 104 mila in tutto il 2015 alla presidente poco più di 19 mila nuove riduzioni dopo il progressivo calo negli ultimi due anni gli assessori Telesca e Vito le somme più piccole appunto per le missioni come assessori regionali la cronaca adesso un po' di cronaca con una vicenda che ha visto protagonista una dipendente di una banca stangata sui risparmi maxi sequestro indagini congiunte dei carabinieri di Tolmezzo e della guardia di finanza di Udine gli investitori stimano che gli ammanchi totali possano aver raggiunto oltre 2 milioni di euro una dipendente della filiale del banco di Brescia di Tolmezzo una donna carnica di Enemonzo di 53 anni è stata sottoposta alla misura cautelare personale dell'obbligo di dimora e al sequestro preventivo di beni perché ritenuta responsabile di truffa e riciclaggio per ammanchi notevoli di soldi dei clienti per un totale di oltre 2 milioni di euro secondo le risultanze investigative la donna già denunciata lo scorso marzo per appropriazione indebita ai danni di un anziano di 83 anni era di quelle in cui parecchi carnici avevano riposto la loro fiducia per poi vedersi raggirati andiamo a vedere qualche particolare in più su questa notizia andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato anche noi che ha realizzato Davide Zanirato vediamo i carabinieri e la guardia di finanza di Tolmezzo hanno eseguito un sequestro preventivo per equivalente di beni immobili e immobili per un valore di 250 mila euro nei riguardi di una impiegata di banca accusata di aver distratto i soldi dei correntisti dell'istituto di credito la donna è stata sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di dimora per decisione della GIP di Udine nei suoi riguardi la procura friulana che coordina le indagini ha ipotizzato i reati di truffa e riciclaggio perquisizioni sono state fatte nell'abitazione della donna e del marito e di altre persone che però non risultano indagate le attività investigative realizzate in sinergia dalle due forze dell'ordine originate da alcune denunce presentate dai correntisti dell'istituto di credito di riferimento hanno consentito di definire sostanziose distrazioni patrimoniali in danno dei risparmiatori coinvolti poste in essere dall'indagata nel gennaio 2016 in particolare un anziano cliente dell'istituto di credito ha lamentato inspiegabilmente l'ammanco di un importo pari a circa 150.000 euro l'uomo aveva intrattenuto rapporti ed operato esclusivamente con l'impiegata oggetto dell'indagine persona della quale il denunciante aveva una lunga conoscenza personale della quale era nata una profonda fiducia e stima reciproca circostanze queste che sono poi risultate essere comuni anche per le altre persone rimaste loro malgrado oggetto del raggiro al termine dell'indagine Carabinieri e Finanza hanno stimato che gli ammanchi totali possano aver raggiunto la cifra di più di 2 milioni di euro i beni sottoposti a sequestro si apprende ancora dagli investigatori sono denaro immobili e diverse borse di pregio ritorniamo adesso sulle pagine del gazzettino andiamo a leggere qualche altra notizia a cominciare da quella riguardante l'arrivo di un friulano alla guida del secondo stormo di rivolto turco comandante del secondo stormo un ritorno nella mia terra ieri il cambio della guardia alla guida appunto del secondo stormo dell'aeronautica militare a guidarlo come detto c'è ora il colonnello edi turco friulano di povoletto proveniente dallo stato maggiore dell'arma azzurra 43 anni non ha nascosto la sua emozione nell'assumere questo compito ritorno nella mia terra ha detto a comandare in quell'aeroporto dove ormai 30 anni fa ho scoperto la mia vocazione per l'aviazione e vediamo alcune immagini della cerimonia e poi sempre per quanto riguarda la cronaca il gazzettino ritorna oggi sull'incidente stradale in cui ha perso la vita l'altro ieri un giovane di Talmassons morto a 26 anni medio friuli in lutto la vittima appunto è Michele Fabbro il sindaco di Talmassons dice è una famiglia di persone per bene il nonno ha costruito il municipio e poi ieri un altro grave scontro nel pomeriggio fra un'auto e un tir a San Daniele del Friuli l'incidente è avvenuto alle 15 e 45 si sono scontrati una Fiat Panda e un auto articolato con targa italiana l'incidente è avvenuto sulla strada regionale 463 la donna che guidava la Panda è stata portata in ospedale il gazzettino dice che è rimasta seriamente ferita andiamo adesso a vedere un altro servizio continuando con la cronaca ritorniamo su un'altra notizia che abbiamo già visto ieri sui giornali ovvero il crollo del tetto di una palazzina settecentesca a Palmanova andiamo a vedere quali sono le ultime novità andiamo a vedere come è andato il sopralluogo dei vigili del fuoco e della soprintendenza ieri mattina al servizio le forti precipitazioni e il degrado sono la causa del crollo dell'ex macello veneziano di Palmanova l'acqua ha infatti compromesso le travi al punto che il legno dell'edificio di proprietà comunale abbandonato da decenni ha ceduto trascinando buona parte del tetto e della facciata fortunatamente nel crollo dello stabile di Borgo Aquileia che si trova accanto alle scuole medie e alla sede dell'università della terza età non sono stati travolti pedoni anche se i ruideri hanno occupato buona parte della careggiata nonostante la rete di protezione che vi era stata posizionata il sindaco Francesco Martinez ha eseguito ripetuti sopra luoghi insieme ai vigili del fuoco protezione civile FVG strade e sovrintendenza alle belle arti sono stati quindi adottati tutti gli accorgimenti di sicurezza l'area è stata transennata e nella strada antistante è stato adottato il senso unico un crollo che rende ancora più urgente per il comune di Palmanova intervenire per la riqualificazione del seicentesco edificio insieme alla caserma Filzi l'immobile crollato era in cima alla lista degli interventi a cui destinare una parte dei fondi attesi dal ministero dei beni culturali più volte messo in vendita in passato tutelato dalle belle arti l'ex macello non aveva mai trovato acquirenti tanto che le sue condizioni sono via via peggiorate e torniamo adesso nel Pordenonese siamo sulla pagina del gazzettino che apre il fascicolo dedicato a Pordenone e provincia e si parla di ospedale in apertura del nuovo ospedale di Pordenone ieri sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo nosocomio salute cittadella e ospedale parte la sfida del territorio consegnati i lavori alle imprese che hanno vinto le gare di appalto per le due opere nel 2019 pronto il polo dei servizi nel 2021 il nuovo Santa Maria degli Angeli neanche in questo caso andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato anche noi che ci mostra appunto le immagini della consegna dei lavori per il nuovo ospedale di Pordenone vediamo Pordenone avrà il nuovo ospedale la cittadella della salute tra maggio e giugno 2019 questa è la conclusione auspicata per la costruzione dei due edifici che rappresentano l'attuazione della riforma sanitaria lo ha rimarcato la governatrice Deborah Seracchiani in occasione della firma del contratto tra l'azienda per i servizi sanitari 5 e la ditta di Carpi che eseguirà i lavori le opere sono finanziate dalla regione con uno stanziamento di 170 milioni di euro la scelta che ha preso la giunta regionale non semplice di rinunciare al progetto della comina per farlo in via montereale credo che si sia rivelata una scelta felice abbiamo rispettato tutti i tempi oggi siamo in grado di avere non solo tutte le risorse ma anche la possibilità di fare di Pordenone il terzo hub e di avere quella fotografia della sanità che ci permette di mettere insieme l'ospedale la cittadella della salute forte collaborazione con il crodeviano e con i poli universitari della nostra regione quindi direi che veramente a Pordenone stiamo costruendo fisicamente la riforma della sanità e in più non ci dimentichiamo che fa parte di quei lavori sull'edilizia sanitaria di cui la regione è protagonista terzo e quarto lotto di Udine gli ospedali minori come San Vito come Tolmezzo gli ospedali maggiori come Cattinara Burlo o il Maggiore sono oggetto di attività importanti e fanno di questa regione appunto una regione in prima linea sull'edilizia sanitaria l'ospedale di Pordenone la cittadella della salute possono veramente diventare il simbolo della nuova sanità perché è la sanità integrata ma anche di come il pubblico può essere efficiente può funzionare può far vedere ai cittadini che anche le risorse pubbliche sono ben spese qui ce ne sono tante perché sono 170 milioni che la regione ha messo quindi si parte con tutte le risorse e quindi dobbiamo fare il meglio possibile perché queste sono risorse dei cittadini e adesso ci spostiamo idealmente verso le ultime pagine dei quotidiani le pagine degli spettacoli e dello sport prima di andare sulle pagine sportive e vedere appunto come i giornali di oggi il gazzettino la gazzetta raccontano la presentazione ieri di mister del neri ci fermiamo un attimino sulle pagine dedicate agli spettacoli e parliamo di Italia's Got Talent perché al Teatro Nuovo Giovanni D'Audine proseguono le selezioni degli aspiranti partecipanti a questo talent show in giuria è arrivata ieri anche Ludovica Comello e noi abbiamo realizzato un servizio proprio sulla presenza sulla partecipazione della cantante friulana di San Daniela a questo talent show vediamo Italia's Got Talent per la prima volta a Udine com'è da friulana tornare a casa per condurre questa trasmissione un'emozione un'emozione sono contentissima sento anche avverto un leggero senso di responsabilità dobbiamo dimostrare come è fatto di che pasta è fatto il pubblico friulano quindi ecco ci tengo particolarmente però no sono contentissima ecco insomma è la prima volta che forse qualcosa di così grande ma la prima no però insomma non succede molte volte che approdi a Udine quindi ho visto che la gente lo aspetta con impazienza insomma sarà un grandissimo show e gli udinesi ne rimarranno felicissimi questa mattina ha girato per la città per fare delle scenette dei siparietti che verranno usati nella trasmissione com'è stata accolta dai passanti? no bellissimo bellissimo abbiamo girato tutta una serie come hai detto tu di gag tipicamente friulane cioè dall'affettare il prosciutto a sorseggiare vino in un'unoteca poi ho ballato in piazza San Giacomo sotto gli sguardi niente un po' stupiti della gente però no è stato bellissimo bellissimo mi ha avuto una giornata splendida i passanti erano tutti contenti insomma hanno partecipato positivamente quindi pollici in su una domanda ipotetica se non fosse celebre andrebbe Italia's Got Talent per dimostrare il suo talento? certo ha un sacco di abilità e innanzitutto so tirare fuori le scapole guarda fa schifo vero? ecco secondo me riceverai un golden buzz per questa cosa progetti futuri a parte Italia's Got Talent? beh adesso sono alle prese con questo poi inizierò a brevissimo assieme a Claudio Bisio le riprese di Kids Got Talent che è lo spin off di appunto l'Italia's Got Talent però interamente dedicato ai bimbi dai 5 ai 10 anni quindi vedremo come se la cavano ecco i kids e poi altri progetti vabbè a Natale uscirà al cinema il mio primo film Poveri Maricchi con Brignano e De Sica di Fausto Brizzi quindi sono curiosissima non vedo l'ora di andarlo a vedere poi non lo so vado dove mi porta il vento sinceramente non ne ho ancora idea questa era Lodovica Comello friulana a condurre Italia's Got Talent non in giuria e c'è anche un altro friulano che condurrà le sorti nei prossimi mesi dell'Udinese Gigi Del Neri presentato ieri ufficialmente allora andiamo a vedere l'articolo che troviamo oggi sul sul gazzettino ecco il titolo di apertura Del Neri corteggia tifosi e giocatori ieri la presentazione ufficiale e il primo allenamento con la squadra tra poco andremo anche a vedere il report di questo primo allenamento diretto da Del Neri dovranno terminare ogni partita con la maglia sudata interessanti Fofanà e Pegnaranda queste le parole di Del Neri che poi ha detto che a proposito appunto del suo rapporto con la società con la famiglia Pozzo ci inseguivamo da diversi anni ha detto Del Neri non solo è considerato tecnico navigato e bravo ma si dimostra anche abile comunicatore tanto che ha già fatto breccia nella tifoseria così scrive Guido Gomirato nell'attacco del suo articolo Luigi Del Neri che ieri è stato presentato alla stampa dal presidente Franco Soldati e dal DS Nereo Bonato è stato più che mai convincente nell'illustrare il suo credo comportamentale e tecnico tattico assicurando che la cultura del lavoro tipica del friulano verrà sempre tutelata da lui e dalla squadra ho lasciato il friuli con questa mentalità ha detto Del Neri per svolgere altrove la mia professione e ho sempre dato il massimo altrimenti mai avrei fatto l'allenatore ha spiegato Del Neri che avrà come vice Giuseppe Ferrazzoli e poi ancora i miei atleti dovranno uscire dal campo con la maglia sudata nessuno dovrà accusarci di non aver dato il massimo e il mio sarà un impegno totale ad una società che ha dei valori importanti questi alcuni passaggi della conferenza stampa di ieri di mister Del Neri ma andiamo a sentire anche qualche altra pillola tratta proprio dalla conferenza stampa di ieri andiamo a sentire quello che ha detto a proposito appunto del suo arrivo del modulo ma anche della difesa sentiamo le parole appunto del nuovo ministro dell'udinese del Neri di questa opportunità la famiglia Pozzo perché era tanto tempo che ci inseguivamo probabilmente il tempo mi sembra sia arrivato e siamo molto soddisfatto di questa opportunità e mi riporta chiaramente nella mia terra che sono qui e mi riporta a vestire così bianco e nero non da giocatore ma da allenatore quindi è un doppio passaggio ed è chiaro che il mio sarà un impegno totale per quello che vuol dire dare quello che ho a una squadra che ha dei valori e a una serietà che si aspetta poi da questi giocatori e da questo campionato comunque un suo arrivo ben preciso ma anche 4-2-3-1 anche ma non col dipende 4-1-4-1 che poi ha sempre 4-3-3 anche un 4-5-1 che poi ha sempre 4-3-3 cioè i numeri ma c'è i numeri i numeri c'è c'è la campionata full i numeri sono insomma si leine e basti insomma quindi anche perché poi nel senso che il campo c'è il gioco il gioco è dinamico poi i numeri no? i numeri si ma si per i numeri io ti ho risposto sui numeri nel senso pratico 4-4-2 è fatto diverso ha delle due punte pure di caratteristiche diverse con due tornanti di caratteristiche diverse anche se Manfredini per esempio nel Chievo era un'espunta non era un tornante quindi la base cosa c'è? la base è che prendono i giocatori insegnarli a stare in campo far fatica a lavorare ci sono dei giocatori che hanno un potenziale fisico pazzesco sì per esempio il Turo fa 11 km e mezzo per domenica tu mi dici come? e li fa statisticamente quindi potenzialmente potenzialmente a polmoni per fare diversi ruoli quindi tu bisogna vedere insomma non è che lo sposare un tipo di discorso viene il problema di fondo è trovare la qualità importante dei giocatori e mettere a disposizione degli altri per i giocatori di calcio attuale un giocatore singolo non fa mai squadra quindi cercheremo di dare un rapporto tattico alla difesa che generalmente e quasi sicuramente sarà sempre a 4 e questo mi sembra un fattore abbastanza normale perché a giorno d'oggi è bisogno di gente che sappia anche attaccare insomma perché non puoi secondo me fossilizzarti a un discorso solo bene difensivo che abbia delle linee dei lavori importanti degli accoppiamenti soprattutto importanti per poter rendere al massimo nei 90 minuti quindi cercheremo di lavorare sulla squadra sui settori sui singoli su tutte le cose che servono a un giocatore per ottenere il massimo delle sue qualità speriamo di individuare bene i ruoli ben definiti perché sono dei giocatori che devono acquisire comunque un ruolo ben definito e lavorare su quello questa è una mia impressione sui giocatori di adesso che l'ho visti sia singolarmente che è un gioco di squadra quindi hanno caratteristiche diciamo che possono essere abbinate diverse soluzioni però dobbiamo trovare una soluzione che sia la più idonea ai loro caratteristiche e questo sarà un compito nostro principale del mio e dei miei collaboratori queste le parole di mister Del Neri ieri in conferenza stampa andiamo a leggere anche le opinioni dei colleghi friulani di Del Neri Reia Giacomini e Fedele che appunto parlano del tecnico di Aquileia e dicono ora la squadra non ha alibi ecco il titolo dell'articolo che troviamo sul messaggero veneto e poi ancora andando nel taglio alto si fa il punto sull'infermeria bianconera Samir e Alfredson verso il recupero per la Juve scrive il gazzettino nuovo tecnico vecchi infortuni ma sull'udinese torna un raggio di sole scrive appunto il gazzettino di oggi andiamo a vedere anche l'articolo che troviamo sulla gazzetta dello sport dedicato appunto sempre alla presentazione di mister Del Neri eccolo con la foto del nuovo allenatore bianconero ieri in conferenza stampa udinese senti Del Neri qui per aprire un ciclo con la Juve è facile ha detto il nuovo tecnico bianconero un friulano a casa sua scrive nell'occhiello la gazzetta dello sport dalla mia terra ho ereditato il sacrificio i tifosi lo sanno a Torino si gioca senza nulla da perdere mi piacciono Fofanà e Pegnaranda detto sempre il mister leggiamo le prime righe dell'articolo di Massimo Meroi sulla gazzetta dello sport essere profeti in patria è complicato ma Gigi Del Neri ci vuole provare con tutte le sue forze io sono un friulano le sue prime parole da allenatore dell'udinese al posto dell'esonerato Iachini il nostro è un popolo di lavoratori nessuno mi potrà rinfacciare che non lavoro ho la mentalità friulana ho assorbito questo nella mia terra è forse proprio questo modo di essere che mi ha permesso di fare il calciatore prima e l'allenatore poi darò tutto e la gente lo sa può metterci la mano sul fuoco senza il rischio di bruciarsi e tra poco andremo a vedere anche il report del primo allenamento diretto da Mister Del Neri tra poco ci collegheremo anche con Francesca Santoro nella zona di Borgo Stazione vedo già che arrivano alcune immagini appunto dalla dalla zona di Borgo Stazione dalla stazione delle ferrovie dalla stazione delle corriere perché oggi nel nostro spazio di approfondimento parleremo proprio di Borgo Stazione in studio con noi avremo ospite il sindaco a Diudine Furio Onsel come detto avremo dei collegamenti in diretta da Borgo Stazione andremo a sentire cosa ci raccontano i commercianti cosa ci raccontano i residenti su come si vive in questa zona al centro di un dibattito acceso proprio in tema di sicurezza adesso prima di fermarci un attimo per la pubblicità andiamo a vedere come annunciato prima il report del primo allenamento dell'Udinese diretto da mister Del Neri andiamo a vedere come annunciato prima appunto il servizio sull'allenamento sul primo allenamento diretto da mister Del Neri e poi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi saremo di nuovo insieme per cominciare appunto a parlare di Borgo Stazione a tra poco Francesca a tra poco anche a tutti voi che ci state guardando da casa è iniziata anche sul campo l'era di Luigi Del Neri come nuovo allenatore dell'Udinese iniziata sul campo numero 2 del centro sportivo Dino Bruseschi dopo una prima attivazione in palestra ovviamente un discorso alla squadra per aprire quello che è il nuovo ciclo dopo le sette giornate targate invece da Beppe Iacchini e sul campo si è visto quello che è un atteggiamento come se fosse il primo giorno di ritiro d'altronde il mister lo aveva detto anche durante la conferenza stampa questi dieci giorni circa di avvicinamento alla gara con la Juventus saranno una sorta di mini ritiro e così è stato un primo riscaldamento anche sul campo dove tra gli altri c'erano anche Silvan Widmer che sta intensificando quello che è il suo iter di recupero per cercare di tornare a disposizione il prima possibile da truppa bianconera e anche Marco Davide Faraoni che ovviamente dopo quella che è stata la rete segnata in primavera vuole cercare di mettersi in evidenza anche con la prima squadra perché no per essere proprio un possibile primo giocatore che può andare a rimpiazzare proprio l'esterno svizzero che inevitabilmente dovrà aspettare ancora un po' prima di poter calcare di nuovo il terreno da titolare con la maglia bianconera mancano ovviamente i nove nazionali impegnati con le selezioni mancheranno ancora per diversi giorni visto che gli impegni li toglieranno dalla disposizione del Neri ancora per diverse ore ma il mister sta già cercando di inculcare quella che è la sua idea lo sta facendo in un spazio di campo ridotto in un quadrato che è stato disegnato come spesso abbiamo visto anche nel centro sportivo di Nobruseschi all'interno della metà campo per cercare di ridurre lo spazio si è partiti con veramente i fondamentali perché si è partiti dai palleggi dagli stop dagli agganci dal possesso palla e poi si è passato ad una fase con il solito discorso delle partitine a pressione delle divisioni tra casacche e dei giocatori che devono cercare di controllare il pallone con un numero di tocchi desiderato dal tecnico ovviamente con grande pressione e pressing da parte degli avversari ed è questo uno degli aspetti si è parlato molto di ampiezza durante la conferenza stampa si deve inevitabilmente giocare con maggiore qualità una qualità che si parte a cercare da oggi con la nuova cura la cura di mister Gigi Del Neri